Ma la cosa più importante, signor Valeri, è che voi cerchiate di accettare quello che è successo. Questi bambini sono normali! I genitori li conoscono i loro figli? Lo sanno che cosa sentono? E i colori come sono? Sono belli! Il blu è come quando vai in bicicletta e il vento ti dispiace che hai in faccia. Ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudono gli occhi per sentire la musica più intensamente. Hai sentito? E cosa sarebbe? Il vento, no? Anche toccando il viso di una persona si può capire se è bella o brutta. Posso sentire anche la voce. La libertà è un lusso che noi, ciechi, non ci possiamo permettere. E togliamo la cosa più bella che in questi anni si portano dentro. I loro sogni. Agenda! 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 Grazie a tutti